L'incremento di tassazione dal 26 al 42% è ormai quasi una legge. In effetti, qualche giorno fa è stato firmato il disegno di legge sulla manovra finanziaria per quanto riguarda l'anno 2025 anche dal Presidente della Repubblica. E questo potrebbe portare ancora più ad essere realizzata proprio quell'aumento dal 26 al 42% sulla plusvalenza per quanto riguarda la vendita delle criptoattività e quindi di Bitcoin. Ma in effetti mi sono anche fatto una domanda, per quale motivazione dovremmo aver paura di questa manovra sulla vendita di Bitcoin? C'è la possibilità in effetti anche di poter investire in Bitcoin e quindi di giovare della sua volatilità e quindi dell'incremento esponenziale del suo prezzo anche senza andare ad acquistare Bitcoin fisico e quindi senza dover rischiare di dover pagare il 42% nel prossimo anno. Ma quali sono gli strumenti qui in Italia e quindi in Europa che ci permettono di investire sul Bitcoin e di andare ipoteticamente anche a guadagnare grazie proprio all'incremento che dovrebbe esserci tra la fine di quest'anno e l'inizio dell'anno prossimo? Ragazzi se quello che state guardando, tutti i video che portano questo canale vi piacciono, vi chiedo di iscrivervi anche perché la maggior parte di voi non è iscritta, ma guarda comunque questi video. Per voi è semplicemente un click, ma per me è un grandissimo aiuto che mi permetterà anche in futuro di poter dedicare più tempo a questa forma di divulgazione. Ma adesso torniamo al video. Oggi andremo a vedere tutti gli strumenti più interessanti e anche le piattaforme dove andare ad acquistare per continuare ad investire sul Bitcoin e continuare logicamente anche a pagare una tassazione del 26% andando anche a giocare logicamente della sicurezza a livello legislativo e anche a livello di tassazione proprio di questo strumento. Partiamo prima di tutto dal definire che cos'è un ETN. Un ETN è un Exchange Trade Notes, ossia una variante di un ETP, molto simile all'ETF. Solo che in Italia e quindi anche in Europa non esiste la stessa legge che esiste negli Stati Uniti d'America, dove un ETF può anche essere su un singolo asset. Ma un ETF qui in Europa deve avere una certa diversificazione. E quindi l'unico modo per continuare ad investire sul Bitcoin e quindi utilizzare uno strumento comunque legale che è riconosciuto dalla legge e che è già anche riconosciuto a livello di letteratura fiscale è andare ad investire su una derivazione di un ETF, ossia un ETN o ETC. L'ETN è un Exchange Trade Note come avevo detto ed è uno strumento che può andare ad investire su un singolo asset, come per esempio una criptovaluta, che non è una commodity. In effetti in alcuni casi c'è anche la possibilità di investire sul Bitcoin andando ad utilizzare un ETC, che è un Exchange Trade Commodity, ossia un ETF, un simile ETF, in realtà che fa parte sempre della famiglia degli ETP, che va ad investire proprio su una commodity. E in alcune nazioni e alcune aziende sono riusciti anche a creare un ETC che va ad investire direttamente su Bitcoin. Ma adesso, ricapitolando questo argomento, andiamo a vedere quali sono i possibili ETN ed ETC sui quali è possibile investire in Bitcoin qui in Europa e logicamente in Italia. In questo caso noi andiamo a guardare proprio questa scheda che ci presenta JustETF e che ci mostra che ci sono diversi ETN ed ETC che ci possono dare la possibilità di acquistare Bitcoin anche a un prezzo abbastanza contenuto. Questo perché dovete sapere che esiste un costo di funzionamento, di chiamiamolo, il chiamato TER, su gli ETN ed ETC, ossia la famiglia degli ETP. Come vedete ci sono alcuni anche chiamati ETP. In realtà sono gli ETP e la famiglia generica, dopodiché ci sono ETF, ETN, ETC. In questo caso abbiamo prima di tutto un parametro da guardare. Il fondo, ossia la dimissione, quanti soldi sono investiti all'interno del fondo. Più soldi sono investiti all'interno di questo fondo, più c'è una certezza e una sicurezza per quanto riguarda lo strumento stesso. Inoltre c'è, logicamente, come stavamo dicendo prima, anche il costo di gestione di questo fondo, ossia il TER. In più bisognerebbe anche guardare l'uso dei profitti, quindi è un'accumulazione, in questo caso logicamente bitcoin non rilascia dividendi e quindi viene definito accumulazione, ma in realtà non ci sono proprio dei dividendi. Ultima cosa da guardare è il metodo di replica, se sono replica sintetica o replica fisica. Replica fisica significa che il fondo che va ad emettere questo ETP dà la possibilità di avere un derivato, quindi con questo titolo, basato però, quindi coperto da un equivalente in bitcoin, quindi in realtà loro dovrebbero detenere bitcoin all'interno del loro wallet. E in questa maniera poi emettono questo ETC o ETP o ETN, in base, logicamente, allo strumento che va a replicare proprio bitcoin. Quando andiamo a guardare e a scegliere uno strumento dobbiamo sempre quindi tenere conto di questi quattro parametri, oltre al fatto che poi, se volete anche andare a dare un'acchiata al domicilio, potete comunque sempre darlo. Dal mio punto di vista, insomma, uno vale l'altro. Quindi io andrei a guardare, punto primo, il 2%, non tanto per proprio questo costo, ma perché in effetti è quello che ha la dimensione del fondo maggiore e che è un parametro molto importante nella scelta di questa tipologia di strumenti, perché va a garantire la solidità del titolo stesso e quindi l'impossibilità o comunque la difficoltà nel farlo chiudere in un futuro. Poi dobbiamo sempre comunque calcolare che questi strumenti finanziari qui in Europa esistono all'incirca da tre anni, quindi in realtà gli Stati Uniti d'America sono anche subentrati successivamente in ritardo rispetto all'Europa all'interno del mercato dei derivati che replicano bitcoin. Andiamo a guardare, per esempio, il primo. Il primo è un ETN che va a, cioè un ETC, che va a retricare bitcoin. Quindi come mi stavo dicendo, ETC Exchange Trading Commodity. In questo caso è stato riconosciuto come una commodity. E l'emittente è ETC Group, un emittente che comunque è molto grande all'interno del mercato europeo. Quindi abbiamo comunque un prodotto di un emittente molto importante. Una di quelle cose che dovremmo andare a guardare, come stavamo dicendo, è proprio la replica fisica. E qui ci garantisce che praticamente è una replica da titolo a debito sostenuto da una detenzione. Un'altra cosa che dobbiamo andare a guardare è il taglio, diciamo, il prezzo per singolo lotto. Perché? Perché c'è la possibilità di acquistare piccoli parti di lotti di bitcoin o comunque di questo ETC che vanno a retricare poi l'andamento. Quindi non si ha idea che possiamo fare come quando acquistiamo bitcoin, che mettiamo per esempio un euro e acquistiamo un controvalore pari a un euro di bitcoin. Ma dobbiamo acquistare obbligatoriamente un determinato quantitativo definito dal prezzo dell'asset in questo momento. Per esempio in questo momento c'è una forbice, c'è tra i 30 e i 61 dollari e in questo momento costa alle circa 57 dollari, 57 euro e 43 centesimi. Scusate, sono abituato a ragionare in dollari su bitcoin. Quindi questo è un altro parametro che dovremmo tenere presente proprio perché in questa maniera noi sappiamo quanto possiamo, quante parti possiamo andare ad acquistare. Per esempio se andiamo ad investire 100 euro sappiamo che possiamo acquistare solo una parte, un lotto di questo ITC. Mentre se andiamo a investire per esempio 200 euro allora abbiamo la possibilità di acquistare per esempio 3. Le restanti è logico che utilizzando dei broker rimarrebbero all'interno del conto del broker e nel momento in cui decidiamo di fare una seconda entrata andrebbero a accumularsi e quindi potremmo ipoteticamente acquistare più parti rispetto alla precedenza. Quindi questo è uno di quei titoli che a livello di costi è comunque abbastanza contenuto, 57 euro non sono tante e in più ha uno spread che comunque si mantiene abbastanza nella media, 0.06 sull'acquisto e 0.10 sulla vendita. Questo è logico, comunque è una media. E possiamo andarlo ad acquistare, ci dice JustETF su Scalable Capital. In realtà Scalable Capital detiene quasi tutti gli ETF che ci sono, scusate, gli ETC e gli ETN che ci sono all'interno dell'Unione Europea per quanto riguarda logicamente Bitcoin. Un altro strumento che potremmo andare a guardare è il secondo, il CoinShare Physical Bitcoin, con in fondo da 904 milioni di euro, un R dello 0,3%, un a domicilio in Jersey e logicamente a replica fisica. E questo è uno strumento anche abbastanza interessante perché? Perché ha prima di tutto una capitalizzazione molto grande, è il secondo per capitalizzazione. In più è uno strumento che ha un costo per singolo lotto anche abbastanza contenuto, 60 euro. E in più abbiamo logicamente la replica fisica, quindi la detenzione reale fisica di Bitcoin. È sempre acquistabile su Scalable Capital e quindi è un prodotto che potrebbe essere un valido sostituto logicamente di Bitcoin fisico. Abbiamo qui l'easing e questo è il ticker BTC. BTC. Dopodiché possiamo andare a guardare gli altri. Io questo lo andrei a saltare, eliminare, anche perché anche se ha una capitalizzazione buona, ha un 1.49 e quindi non essendo neanche il primo per capitalizzazione, pagare anche un 1.50 praticamente di costi, io onestamente andrei ad evitarlo. Poi abbiamo quello di Wisdom Tree Physical che è un altro valido sostituto che potrebbe essere ipoteticamente un strumento da poter acquistare, sempre in base logicamente al costo per singolo lotto che in questo caso si attesta addirittura a 15 euro. Questo cosa comporta? Comporta logicamente che possiamo acquistare più parti di Bitcoin e quindi se abbiamo un quantitativo di denaro fisso mensile di 100-150 euro possiamo andare ad acquistare più parti di questo e andare a detenere una liquidità non investita minima sul conto in attesa dell'investimento del mese successivo. Quindi una cosa molto interessante è il fatto che comunque ha un prezzo per singolo lotto abbastanza basso. In più abbiamo comunque uno spread molto basso dello 001-007 ed è sempre prestabile su scalable capital, quindi comunque è un asset abbastanza sicuro. In più abbiamo la sua data di creazione del 28 novembre 2019, quindi come sapete è anche antecedente addirittura agli ETF degli Stati Uniti d'America. Quindi questo potrebbe essere un valido sostituto, quello di Wisdom3. Dopodiché andiamo a guardare quello che praticamente è quello che costa di meno qui in Europa, o quello del 21 share bitcoin core ATP. Quindi andiamo a vedere che ha comunque 140 dimensioni del fondo, poi ha un 0,21% di terra molto basso, interessante, è risedente in Svizzera ed è sempre a livello di replica, una replica fisica. La cosa interessante da poter guardare è che anche questo, in questo caso, ha un costo molto contenuto di 15 euro. Ha sicuramente uno spread un pochino più alto rispetto a quello di Wisdom3 che era 0.01 e 0.07 vendita. Questo invece in acquisto lo 0.03 e in vendita lo 0.2, quindi comunque è un po' più alto, quindi potremmo andare a perdere nella vendita. Ma comunque stiamo parlando praticamente di minuzie, non di cose molto importanti. È logico che poi in base al quantitativo di denaro teniamo ad investire. Un'altra cosa però da tenere sott'occhio è il fatto dell'adminazione del capitale, che è 140 milioni di euro. Certo, ha un costo di gestione più basso, dello 0,21% rispetto a questo che è dello 0,35%, ma a livello di capitalizzazione qui siamo a livelli nettamente superiori, 641 milioni rispetto ai 140 milioni. Quindi capite che tra i due, anche se in effetti il costo è uguale e il TER è più basso, io andrei per esempio a preferire quello di Wisdom Tree, semplicemente per una questione di sicurezza per quanto riguarda la dimensione del fondo. Poi, comunque stiamo parlando di Wisdom Tree, di 21 Share, quindi sono delle aziende così tanto grosse che è praticamente impossibile, che anzi impossibile non si può dire nella finanza, ma è molto difficile, ecco, che chiudano il fondo. È vero che comunque è nato anche dopo, ossia il 29 giugno del 2022, mentre questo è nato un po' prima, il 28 novembre del 2019. Quindi stiamo parlando di due date, una differente dall'altra. E normalmente, anche in questo caso, è un altro dato da tenere presente, più è vecchio, più è sicuro a livello sempre di, logicamente, di longevità. Quindi la longevità dello strumento potrebbe giocare a favore dell'investitore. È ultimo, non per importanza, ma semplicemente perché ha comunque dei dati inferiori, quindi stiamo parlando di una dimensione del fondo di 91 milioni, comunque un TER del 35 e potremmo tranquillamente andare a prendere quello di Wisdom Tree, che è costo uguale, ma è di Fidelity, quindi comunque è un'azienda molto più importante, grossa, che ha fatto comunque, si è fatta sentire nel panorama degli investimenti per tanti anni e quindi, dal mio punto di vista, potrebbe essere valutabile anche questo. E stiamo parlando di un altro ETF, anzi un altro ETP, che va a replicare Bitcoin in maniera fisica. La questione importante rispetto agli altri due, che vi ricordate che costavano 15 euro per singolo lotto, questo costa solo 6 euro per singolo lotto. È vero, c'è un capitale nettamente inferiore a quello di Wisdom Tree. Abbiamo una data di nascita, quindi di lancio del 10 febbraio 2022, è domiciliato fisicamente in Germania. Ha diverse cose differenti dagli altri, ma il costo molto allettante del singolo lotto è veramente allettante, proprio perché, come vi ho sempre detto, andiamo ad investire dei capitali che non sono proprio perfettamente equilibrati per andare ad acquistare giusto il quantité, quindi usare tutto il capitale che abbiamo deciso di investire. Ma più è piccolo il lotto, più riusciamo a consumare, diciamo, il capitale nel stile che noi ci mettiamo a disposizione, proprio per non lasciare soldi non investiti all'interno dei vari conti dei broker. Anche se c'è da dire comunque che ad oggi i vari conti dei broker, non so se sui schede World Capital anche, comunque danno un ritorno, mi pare, del 3,5% anno loro, quindi comunque non è che rimangano totalmente fermi, qualcosina ci ritorna. Però è giusto dire questa cosa che, dal mio punto di vista, più il lotto è piccolo e più c'è la possibilità, logicamente, di andare ad acquistare vari lotti e quindi di consumare tutto il nostro capitale investito in quella singola settimana, per il singolo mese, insomma, in quella singola entrata. Quindi, se dovessi decidere io personalmente di andare a investire su Bitcoin e quindi su uno strumento del genere, io andrei a guardare, come vi ho già detto prima, o quello di Wisdom Trick, comunque abbiamo una capitalizzazione molto alta, oppure direttamente quello su Fidelity, che abbiamo comunque un costo per singolo lotto, nettamente più in basso rispetto ai restanti, logicamente ai restanti con capitalizzazione abbastanza elevata. Questo, logicamente, è un mio punto di vista e non deve essere preso come un consiglio finanziario. Questo è solo per mostrarvi che esistono comunque strumenti legali, strumenti riconosciuti, strumenti già fiscalmente tranquilli, che non dovrebbero, dovrebbero, perché siamo comunque in Italia, subire variazioni diverse rispetto a quelle che già hanno ricevuto nei tempi passati, quindi dovrebbero rimanere ipoteticamente sempre alla stessa tassazione, anche se comunque vanno a replicare Bitcoin. Sappiamo che questo è un totale attacco ai possessori di Bitcoin fisico che vogliono comunque poi andare a guadagnare sulla volatilità e quindi anche a fare soltanto trading. Sappiamo che ci sono questi strumenti che logicamente stanno invogliando a utilizzare proprio per cercare di tenere sotto controllo i vari investitori. Sappiamo anche che Bitcoin non è soltanto volatilità, non è soltanto potenzialità di guadagni elevati rispetto al mercato normale. Sappiamo che Bitcoin è anche una tecnologia di libertà e comunque di scambio di valore differente, sostitutiva, che c'è una possibilità di fare in maniera anche diversa, senza essere controllati e senza essere rotti. È logico, c'è bisogno di una conoscenza ad oggi comunque sopra la media per utilizzarlo nella maniera giusta, ma c'è la possibilità, una nuova possibilità. Quindi, dopo avermi spiegato quali sono i vari strumenti che possono essere utilizzati, io credo di avervi detto tutto. Se avete qualche domanda, scrivetelo sotto nei commenti. Vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!